Cari amici, buonasera e bentrovati. Siamo qui insieme a voi, ancora una volta con gli amici di ActiTrades, domenica 15 maggio 2022, per parlare della settimana entrante sui mercati finanziari, in particolar modo sui mercati valutari. Ma dobbiamo fare un excursus di quello che sta succedendo sui mercati, perché è veramente complesso, veramente difficile in questo periodo essere sempre presenti sul mercato e cercare di capire quelle che sono le dinamiche principali, perché tanti sono i temi sul tavolo, a cominciare dalla questione macroeconomica che vede alcuni paesi chiaramente in fase di rallentamento macro, ma anche gli stessi Stati Uniti, nonostante la Federal Reserve continua a reiterare nelle dichiarazioni della maggior parte dei bacchieri centrali la necessità di rialzare ulteriormente i tassi, chiaramente questo va contro quella che è in questo momento l'analisi del mercato che sembra mostrare un rallentamento dei principali aggregati macroeconomici. Dall'altra parte abbiamo una guerra, la guerra che non termina e che non porta a niente in questo momento, i colloqui di pace lavorano sotto traccia, ma sostanzialmente più che provocazioni non si leggono e quindi la sostanza è che la pace è ancora lontana, la guerra sta provocando un disastro a livello non solo di vite umane, ma anche a livello macroeconomico e geopolitico, per cui per esempio la questione della Finlandia che entra nella Nato è un'ulteriore situazione che rischia di provocare un allargamento del conflitto e un conflitto che diventa sempre più complesso e più difficile da capire. Di fronte a questa situazione c'è anche una questione legata alle strozzature dell'offerta e quindi alla supply chain, cioè alla catena di distribuzione che in generale ha provocato l'aumento di prezzi delle materie prime e continua a reiterare la necessità di un intervento per evitare che le materie prime alzino ulteriormente la testa, ma dall'altro lato avremo prima o poi una domanda che tenderà a calare, ma nonostante questo le banche centrali continueranno a parlare di rialzo dei tassi e non possono fare altro perché essendo rimaste dietro la curva in precedenza nel 2021 quando dichiaravano l'inflazione non strutturale, oggi sono obbligate a rialzare i tassi anche in presenza di un mercato di rallentamento perché nel caso dovessimo entrare in recessione almeno con i tassi al 2% avranno possibilità di abbassarli e ridare fiato all'economia, cosa che se non alzassero i tassi oggi potrebbero trovarsi di fronte ad una situazione di stagflazione evidente che porterebbe un mondo in recessione e una situazione ben peggiore da risolvere. Quindi questa è la questione in questo momento da un punto di vista di politica monetaria, le banche centrali non possono fare altro e la Federal Reserve è quella più impegnata in questa ricorsa al rialzo dei tassi. In questo momento è chiaro che quindi la conseguenza più logica che si ha sul mercato dei cambi è quella di un dollaro forte, un dollaro che è tornato quello di Bretton Woods, un dollaro valuta rifugio per eccellenza, per cui tutte le altre valute diventano carta straccia di fronte a una moneta americana che schiaccia tutte le valute, in particolar modo l'euro che nelle ultime settimane e mesi è andato a scendere progressivamente fino ad arrivare quasi a 1.0340. Tenete presente che le posizioni degli institutionals sul CME a Chicago, che sono le posizioni sul future, hanno indicato negli ultimi mesi sempre posizioni long da parte degli istituzionali che dimostrano quindi di non essere in linea con il mercato. Di solito quando un mercato scende gli istituzionali sono short. Non è il caso di adesso e l'unica volta che abbiamo visto dei numeri negativi, cioè istituzionali che vanno a vendere, è stata la settimana scorsa con il mercato già intorno a 1.04. Quando erano long invece a 1.12, a 1.11, 1.10 e via dicendo. Quindi un euro-dollaro che rimane comunque sulla difensiva, sui minimi e se dovesse rompere i minimi a 1.330, beh andiamo signori e miei al minimo del 2002, di cui stiamo parlando, è un minimo visto esattamente nel luglio del 2002 quando dopo la grande discesa dell'euro a 0.8225 si sali fino a 1.02 rimanendo poi dei mesi tra 0.96 e 1.02 prima della grande salita. Ebbene la rottura di euro-dollaro di 1.0340 potrebbe portare intorno a quei livelli e la cosa che sorprende è l'assenza di dichiarazioni da parte della BCE sul cambio, perché nessuno quest'anno dovrebbe volere un cambio deprezzato, perché il cambio deprezzato significa importare maggiore inflazione e quindi dovrebbe essere costretti ad affrontare un'inflazione ancora maggiore con un mercato e una congiuntura che tendono a calare. Attenzione quindi alla BCE che potrebbe rilasciare qualche dichiarazione questa settimana in favore della moneta unica, ma senza dimenticare anche che cosa? La sterlina, perché la sterlina-dollaro sotto certi punti di vista nelle ultime settimane è scesa più addirittura dell'euro, con una discesa impulsiva dichiarata e voluta, è sembrato almeno così a noi analisti, da Bailey che si è dimostrato preoccupato dell'andamento della congiuntura macroeconomica inglese, nonostante un'inflazione che questa settimana è attesa per quel che riguarda i consumatori, un'inflazione dei consumatori attesa addirittura sopra il 9%, che potrebbe essere in maggio del 1991 a questa parte. Attenzione cari amici, perché la sterlina potrebbe scendere in area 1,19 e mezzo, 1,20 prima di risalire e la tensione è molto forte, anche qui il mercato si basa sulle aspettative legate ai tassi di interesse, ma sulla sterlina prevale le dichiarazioni di Bailey, perché i tassi inglesi sono al 1%, esattamente come gli americani, e sono previsti in salita nelle prossime settimane, specie se l'inflazione, magari importata anche da una sterlina debole, dovesse essere ancora più alta. La questione quindi è abbastanza complessa, ci sono altri cambi che vanno monitorati, il dollaro yen, un dollaro yen che era sceso fino a 127,5 questa settimana sull'onda di un ritorno della versione a rischio tradizionale con le borse americane che scendevano e che si vendono da un mese e che hanno fatto una morning start, cioè un'inversione di tendenza proprio durante questa settimana e con un dollaro yen che dopo essere sceso a 127,5 è tornato addirittura a 129,20. Quindi borse americane che, come dicevamo, sembrano impostate nuovamente a rialzo, se le andiamo a vedere su base daily si vede molto bene questa morning start con la possibilità di vedere un dollaro, un Nasdaq, un S&P e anche un Dow Jones di nuovo in ritorno, anche se il trend rimane ribassista potrò mandare a testare la media 21 e le prime aree di swing rilevanti. Andiamo a vedere ora quello che è il petrolio, il petrolio light crude che rimane assolutamente forte e questa è la grande sorpresa perché da un certo punto di vista la domanda che cala e cala non solo in Europa o in Gran Bretagna ma cala anche negli Stati Uniti e si sono visti i dati venerdì redatti dagli aggregati macro redatti dall'Università del Michigan che hanno evidenziato chiaramente un peggioramento della congiuntura. Ma il petrolio continua a salire e un petrolio che sale non può che favorire le valute dei paesi che sono esportatori, quindi Canada in testa, quindi un petrolio che se dovesse romper 111 potrebbe tornare verso l'area 116 ma fino a che non romperà 93 il trend rimane rialzista. Andiamo a vedere il dollaro Canada che dopo un tentativo di rialzo proprio perché sembrava che il petrolio potesse scendere, un dollaro Canada che sembrava andare a rompere 1,31 e invece è tornato prepotentamente sui supporti a 1,28,90, 1,29, 1,29,20, tutte aree di supporto che vedremo se nelle prossime ore il mercato otterrà. Ci sono dei cambi che sono arrivati su degli eccessi spaventosi e tra questi segnaliamo Sterlina Canada che ha fatto una discesa importantissima da 1,74 del 20 febbraio, siamo neanche al 20 maggio, quindi stiamo parlando di meno di due mesi ha perso qualcosa come 1.600 punti che non sembra molto da un punto di vista percentuale, poco più del 10%, ma è qualcosa di assolutamente significativo. Quindi la questione ragazzi rimane molto importante, la settimana è piena di dati quindi rimanete con noi e mettete un like sulla pagina degli amici di ActiveTrades perché noi siamo sempre con voi e speriamo di darvi le informazioni che vi fanno comprendere quello che è stato dell'arte sui mercati. È una settimana importante per quel che riguarda i dati in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, stiamo parlando di vendita al dettaglio, di produttività del lavoro, abbiamo l'infrazione in Canada, quindi rimanete con noi perché è una settimana importantissima da questo punto di vista e seguite con noi passo per passo tutte le interviste che faremo, le analisi dettagliate di ogni tasso di cambio. Buon inizio settimana, buon trading e ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.